Ciao ragazzi, sono Happy! Bentornati su Mega Wow! Oggi sono un pochino inquieto, vi dico la verità. Sento delle strane presenze. E qualcosa mi dice di collegarmi con Charlotte, per vedere se da lei è tutto tranquillo. Charlotte? Tutto bene? Stai dormendo? Cosa sta succedendo? Come sono? E questa che cos'è? Allora questi sono fantasmi! I pistralli? Dove? No, 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 aiuto! Charlotte, aiuto! Sono arrivati anche da me i fantasmi! Cerca di prendere la pistola laser e sparagli! Oddio, sono disarmato! Charlotte, aiuto! Aiuto, vieni a salvarmi! Aiuto, aiuto! Granata! Charlotte, bravissima! Ora vai a vedere anche il giardino! Di solito è lì che si nascondono! Dovrei andare fuori? Ce ne sono altri? Ok, happy! Ci sono dappertutto! Ci sono in casa mia! Ci sono in camera mia! Ci sono! Lì! Ragazzi, dovete sapere che questa è una zona molto strana perché qui vicino c'è una casa abbandonata e dentro c'è robe strane, rumori! Ci ho fatto pure un video lì dentro e che dire, ho sentito dei rumori e sono super stanca perché è notte praticamente, è notte fonda e mancano 3-4 ore la mattina e sono stanca! Adesso, adesso non lo so, penso di tornare in camera perché i fantasmi vedo che non ci sono più per ora e... Ragazzi, guarda! Fantasmi più strani, fantasmi più strani, fantasmi più strani, fantasmi più strani! Scrivetemi giù nei commenti se voi credete ai fantasmi! Questo, per fortuna, era un sogno! Oddio, sembrava davvero troppo reale, avevo troppo paura! Una pistola? Una pistola? Forse non era un sogno! E ragazzi, iscrivetevi sul canale MegaWow, attivate la campanellina e entro mezzanotte arriviamo a 1.500 like! E beh, che dire, ciao, ci vediamo al prossimo video! Ciao, ciao! Ciao, ciao!